Il consorzio, dopo aver dato soluzione a diversi problemi, mancanza d'acqua per irrigazione, mancanza d'acqua per bere, perché produciamo anche acqua potabile, per l'energia elettrica, per l'uso artigianale, industriale, per i giardini, per il pubblico, oggi a realizzare la sicurezza idraulica del territorio attraverso una rete efficiente di canali e una maglia interpoderale, anche se questo compito dello sviluppo non è di nostra competenza, non è istituzionale, perché è un compito di altri soggetti, parco, comunità montane, tuttavia dato che nessuno, questo problema dello sviluppo agricolo, è del tutto assente in sede locale, abbiamo messo in campo una serie di azioni e iniziative per cercare di creare le premesse per la creazione di questo distretto rurale. Poi è necessario anche un'integrazione dell'agricoltura con gli altri settori produttivi, in particolare con il turismo, ma soprattutto è necessario che le produzioni siano firmate, nel senso che deve essere data visibilità, riconoscibilità all'accidentanità, in che modo? Attraverso l'indicazione sull'equitetta del territorio di origine, in concreto perché io non posso soggiare da molto tempo agli interventi e alla tavola da fonte che è molto utile per i motivi che sapete. insomma, l'agricoltura ha tutti i requisiti per dar vita, sfruttando la irrigazione e gli altri fattori competitivi, clima, tradizione eccetera, può dar vita a questo distretto rurale. Non lavorare per realizzare questo distretto è fondamentale per l'economia, significa proprio che la renda, è un'omissione grave, è un peccato grave. Però questo famoso distretto rurale non viene dal cielo e non è sufficiente l'impegno solo del Consolzio, ma richiede la vostra collaborazione.